Sarà un Natale più simile ad un venerdì santo di passione per chi si mette in viaggio sull'autostrada A14 nei tratti abruzzesi e marchigiani e per i residenti della costa teramana, costretti a sopportare già da settimane lunghe code, traffico e smog. Ma una luce in fondo al tunnel comincia ad apparire perché è arrivato l'atteso provvedimento di dissequestro delle barriere dei viadotti San Biagio, Campofilone e Petronilla nei pressi di Porto San Giorgio nel tratto marchigiano della A14. Qui potranno partire i lavori per la messa in sicurezza come concordato da Aspi con la procura di Avellino mentre nel tratto in questione si è tornati a viaggiare su due corsie seppure a larghezza ridotta. La società concessionaria ha inviato una lettera al Ministero dei Trasporti per chiedere l'urgente apertura di un tavolo tecnico che valuti le opportunità per ridurre l'impatto dei cantieri sulla viabilità. Nel frattempo in Abruzzo bisogna ancora aspettare per il dissequestro. Il presidente della regione Marco Marsiglio in una nota ha raccontato di essere stato in contatto fino alla tarda serata di ieri con il ministro delle infrastrutture De Micheli e con l'amministratore delegato di Aspi Roberto Tommasi in attesa del provvedimento giudiziario di dissequestro. La società autostrade ha dichiarato Marsiglio Mi ha confermato che i viadotti sono sicuri e che alla procura sono stati forniti tutti i documenti necessari lamentando nello stesso tempo il fatto che sia la procura di Avellino che il ministero continuino a richiedere ulteriori relazioni. Marsiglio per questo auspica che il senso di responsabilità prevalga e che nelle prossime ore le strade tornino ad essere percorribili. Intanto continua a levarsi forte la voce dei sindaci di Roseto, Pineto e Silvi i territori abruzzesi maggiormente interessati dalle limitazioni al traffico sull'A14. Il sindaco di Silvi, Andrea Scordella, ha chiesto l'installazione di centraline per la misurazione degli inquinanti e del rumore e parla di una situazione insostenibile sulla Statale 16. Indubbiamente siamo in una situazione di alta criticità proprio perché il nostro tratto per quasi 8 chilometri è attraversato appunto dalla Statale 16 e con questo blocco dei mezzi pesanti siamo andati completamente in tilt. Avevo già tuonato tempo fa dicendo che era impensabile che Silvi potesse assorbire con la sua Statale tutto il traffico dei mezzi pesanti dell'A14. Qua parliamo di quasi 1800 transiti al giorno di mezzi pesanti dunque la nostra cittadina che è completamente urbanizzata e il tratto della SS16 ormai è di competenza comunale è in sofferenza. La cittadinanza questo lo sa benissimo tant'è che ci sono diverse criticità in merito. Io ho richiesto immediatamente un monitoraggio attraverso delle centraline per la qualità sia dell'aria che del rumore perché vogliamo avere dei dati oggettivi da poter portare ai tavoli di confronto con tutte le autorità competenti. A corollario di tutto questo, anche se attenuate dalle festività natalizie, c'è la situazione delle attività produttive sia in Val di Sangro che nella provincia teramana. Per questo le varie confindustri territoriali continuano a chiedere che l'autostrada torni nuovamente percorribile e funzionale al 100%. Ciò che è stato un'autostrada torni nuovamente per un'autostrada torni nuovamente per un'autostrada per un'autostrada trattata. Grazie a tutti.